Andiamo alla politica, fitta agenda elettorale oggi per la candidata del centro-destra alla presidenza della Soscana, Susanna Ceccardi, oggi a Grosseto, come ci racconta Carlo Sestini. Giornata maremmana per Susanna Ceccardi, il candidato del centro-destra alle prossime regionali, ha visitato aziende ed alcune associazioni di categoria prima di un incontro pubblico a Marina di Grosseto. Accompagnata dagli esponenti partiti che la sostengono, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, e dal sindaco di Grosseto, Antonio Francesco Vivarelli Colonna, la candidata governatrice ha visitato in questo suo primo tour maremmano alcune eccellenze del territorio, come Latte Maremma e Olma, ed un primo gruppo di associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Coldiretti e le associazioni dei balneari, per chiudere la giornata a Marina di Grosseto con un incontro pubblico con i cittadini. Per la Ceccardi è stato il primo vero contatto con la provincia di Grosseto, anche se un primo approccio da fresco candidato governatore lo aveva già avuto a Follonica, insieme a Matteo Salvini. Questa volta è stata lei la protagonista per una campagna elettorale che il centrodestra maremmano annuncia essere molto intensa nell'intera provincia.